Io vedo un'unica grande città dalle grandi potenzialità, dove gli stessi cittadini siano i protagonisti e i veri amministratori, dove esiste una progettualità di rinnovamento realizzabile solo cancellando qualsiasi divisione e guardando il territorio attraverso un'inquadratura più ampia, un evidente naturale legame territoriale, un'unica fonte di cultura, una grande città.